8 le persone indagate, 3 le aziende coinvolte ed oltre 10 i milioni di euro di beni sequestrati per una presunta maxifro dell'IVA nella compravendita di metalli preziosi. Questo è il bilancio dell'inchiesta della Guardia di Finanza di Arezzo su un'organizzazione con base operativa nella città toscana, ma ramificata anche in altre regioni, dedita, secondo le fiamme gialle, ad una commissione di una pluralità di delitti che vanno dalla frode fiscale realizzata mediante l'evasione dell'IVA derivante dalla compravendita di metalli preziosi per un giro d'affari di circa 100 milioni all'autoriciclaggio dei proventi illecitamente accumulati, tra i beni sequestrati immobili nelle province di Arezzo, Grosseto, Caserta, Milano, Piacenza e Roma, anche poi auto d'epoca e moto e rapporti finanziari. Il provvedimento è stato disposto nei confronti di persone fisiche e società al centro della frode. Ci sarebbero infatti società cartiere con vorticosi scambi intercorsi tra le ditte con sede in Toscana, Campania e Lombardia che in quattro anni, dal 2018 al 2021, secondo gli inquirenti, avrebbero ceduto ingenti quantitativi di metalli preziosi, in particolare Olo e Palladio, ricorrendo a false fatturazioni. Sono stati anche sequestrati 12 chili di metalli ed oltre 30 mila euro in contanti. Complessivamente, spiegano le fiamme gialle, sono state tracciate e ricostruite ulteriori 13 consegne di metalli preziosi in nero che avvenivano di solito ai caselli autostradali. L'autorità giudiziaria ha infine emesso un provvedimento cautelare sui beni riconducibili agli otto soggetti indagati, si tratta di amministratori di fatto, corrieri e semplici prestanome, ritenuti partecipi a vario titolo del sodalizio criminale.